Finora abbiamo analizzato l'exploitation di tipo remote side, ovvero l'attaccante sfrutta una vulnerabilità sulla macchina a bersaglio e riesce ad accedere al sistema senza che l'utente e la vittima debba effettuare alcuna azione. Adesso invece vediamo un tipo di exploitation diversa, ovvero la client side, in cui è richiesta l'interazione dell'utente tramite clic su un certo link, apertura di un certo eseguibile, documento, in ogni caso un'azione deve essere eseguita lato vittima. Nello specifico andremo a sfruttare questa vulnerabilità che vedete sullo schermo, firefox pdf.js privilege javascript in action. Leggiamo giusto la descrizione, questo modulo permette una remote code execution, vai abusando praticamente di un bug in questo resource URI e pdf.js is used to exploit the bug. Importante, questo exploit richiede che l'utente faccia clic ovunque sulla pagina per triggare la vulnerabilità. Ecco che quindi è richiesta l'interazione dell'utente, una certa azione. Quindi come possiamo leggere ci serve firefox 3536. Quindi andiamo sulla macchina bersaglio, questa è la nostra macchina vittima, in questo momento è presente solo chrome e semplicemente andiamo a cercarci firefox 35. Quindi firefox 3535 download. Andiamo sul sito ftp.mozilla.org. Qui siamo all'interno della release di firefox 35 che appunto è soggetta alla nostra vulnerabilità. Quindi andiamo a prenderci l'eseguibile win32. Ad esempio possiamo selezionare la lingua, mettiamo inglese, nus, firefox setup 35.0.exe. Quindi lo dobbiamo scaricare. Lo apriamo e procediamo quindi con l'installazione di firefox 35.0.exe. Quindi molto molto semplice e molto rapido. Next, standard, install. E ovviamente si può sempre utilizzare questo modus operandi, nel senso si va a cercare la vulnerabilità e poi se vogliamo realizzare il laboratorio ci andiamo a scaricare la versione che è soggetta a quella vulnerabilità. Non sempre avremo a disposizione l'eseguibile o la possibilità di installarlo. A volte sì, a volte no. Però questo è un ottimo esercizio per comprendere appunto il processo di excretation. Qui abbiamo la possibilità di lanciare firefox subito. È indifferente. Possiamo anche lanciarlo. Qui selezioniamo don't import anything che non vogliamo importare niente. Next. E adesso, come si può osservare, si è aperto firefox e questa qui è la versione 35.0.exe. Lasciamo pure tutto così e ci vediamo nel prossimo video per la fase di exploitation. Accediamo adesso alla macchina Kali Linux, la macchina attaccante e cerchiamo quindi di sfruttare la vulnerabilità. Innanzitutto, quello che possiamo fare è cercare il relativo modulo metasploit. In questo caso utilizzeremo questo framework di sicurezza e come si può leggere nella pagina di descrizione abbiamo anche il relativo comando Use, Exploit, Multi-Browser e Firefox, PDF, JS, Privilege Escalation. Quindi proveremo a utilizzare questo. Lo selezioniamo. A questo punto avviamo Metasploit. MSF Console. E ricordiamoci che è necessaria un'azione da parte dell'utente. Quindi Use, Exploit, eccetera. Invio. Ci dice che non è configurato alcun payload. Quindi andiamo a vedere Show payload. Abbiamo la possibilità di utilizzare questi payload. Nel nostro caso andremo a utilizzare Firefox Shell Reverse TCP. Quindi andremo a utilizzare il 2. Possiamo anche semplicemente digitare Set payload 2. E come si può osservare in automatico viene impostato. Adesso Show option. E qui abbiamo alcuni parametri da impostare. Il server host. Questa volta abbiamo questo server host. Che praticamente è l'indirizzo IP che sarà in ascolto poi quando lanceremo l'exploit. Quindi andremo a settare il nostro indirizzo IP. If config. Anzi, lo abbiamo già in lhost. E' questo. Quindi semplicemente lo ripetiamo. Set srvhost 192. 0.168.10.139. Lo stesso. Adesso dobbiamo settare l'srvport. 8080 può andare bene. Il payload l'abbiamo specificato. Firefox Shell Reverse TCP. E a questo punto possiamo eseguirlo. Non dobbiamo specificare altro. Cosa succede? Adesso Metasploit avvierà automaticamente un web server. Che ospiterà la pagina web. Che conterrà poi l'exploit. Bisogna ovviamente essere sicuri che la vittima vada a accedere all'indirizzo che adesso ci verrà comunicato da Metasploit. Questa è la differenza rispetto alla Remote Site Exploitation che abbiamo visto prima. Dove non c'era bisogno di questa azione lato utente. Quindi proviamo a vedere se funziona. Digitiamo semplicemente exploit o run. Come preferiamo. E come si può osservare il server adesso si è avviato. Server started. E questo è l'indirizzo IP che dobbiamo far cliccare alla vittima. Quindi lo prendiamo. Lo copiamo. A questo punto torniamo sulla macchina vittima. E ovviamente quest'ultimo utilizzando Firefox versione 35 dovrà accedere a questo link. Ctrl V. Eccolo qui. Quindi noi in qualche modo abbiamo convinto la vittima a cliccare su quest'ultimo. Io premo invio. Possiamo cliccare ovunque sullo schermo. Abbiamo eseguito l'operazione richiesta. E come si può osservare abbiamo una scelta. Abbiamo una sessione aperta. E ovviamente possiamo digitare qualsiasi comando. Dir. Qui vediamo desktop, document, download, music, picture. Quindi possiamo lanciare qualsiasi comando. Se andiamo su session come si può osservare abbiamo la sessione instaurata. Per accedere basta digitare session. Sessions. Numero della sessione 1. E riaccediamo dentro tipo dir. Ed eccoci qui. Quindi questo è come si procede per un'azione di client side exploitation. L'utente ovviamente ha dovuto cliccare su questo link. Altrimenti l'exploit non si sarebbe eseguito, avviato. Vediamo adesso un altro esempio di client side exploitation. Questa volta lo faremo utilizzando un nuovo strumento. Ovvero BIF. Cosa vuol dire BIF? Vuol dire The Browser Exploitation Framework Project. È praticamente uno strumento utilizzato in ottica penetration testing. Che si focalizza sul web browser. Sul browser. E quello che faremo adesso è appunto utilizzarlo per in qualche modo accedere al browser della vittima e poter effettuare delle azioni tramite quest'ultimo. Quindi sfrutteremo il browser come ponte e anche in questo caso è richiesta comunque l'interazione della vittima. Perché dovrà far qualcosa per noi. Quindi non si parla di remote side exploitation ma di client side exploitation. Quindi innanzitutto questo strumento non è presente nell'ultima versione, nelle ultime versioni di Kali Linux. Per cui lo dobbiamo installare. O semplicemente utilizzando git clone e installandolo manualmente. Oppure digitando il comando apt get install BIF XSS. Quindi questo è il comando che dobbiamo lanciare per installarlo. Io l'ho già installato. Quindi a questo punto mi basterà semplicemente andare a eseguirlo. Digitando il comando BIF-XSS invio. Attendiamo qualche secondo che quest'ultimo si avvii. Quindi ingrandiamo un po'. Come si può osservare il servizio è in running. Quindi è correttamente avviato. E dobbiamo andare sul nostro browser per aprire la web GUI a questo indirizzo. Quindi lo copio. Copy link address. Qui vado su start e apriamo il browser. Ad esempio cronium. Quindi cronium web browser. Eccolo qui. Qui inseriamo la password che mi viene richiesta. Unlock. Ok. Vediamo se si apre la web GUI. Invio. C'è una parentesi di troppo. Via. Invio. Ecco qua. Qui mettiamo le credenziali. BIF. E la password ci verrà richiesta al primo avvio. Io l'ho già settata. E adesso mi trovo all'interno quindi di questo strumento. Ci vediamo nel prossimo video per vedere come si utilizza. Quello che dobbiamo fare adesso è praticamente agganciare in qualche modo, agganciare tra virgolette in qualche modo il browser della vittima. E questo lo possiamo fare andando praticamente a inserire questo codice, questo script all'interno di una pagina web che la vittima cliccherà. Quindi dobbiamo andare a eseguire questo hook.js in qualche modo. Ovviamente al posto di IP dovremo mettere l'IP della nostra macchina perché la vittima poi andrà a connettersi al web server sulla nostra macchina. Quindi quello che possiamo fare innanzitutto copiamoci questo codice, copy selection, apriamo un block notice, ad esempio questo. Copiamo e script source http ip, quindi IP della nostra macchina. Ce lo andiamo a ricercare, quindi comando ifconfig. L'IP della nostra macchina è 192.168.10.139. Quindi lo possiamo copiare. A questo punto torniamo sul nostro notepad e lo incolliamo semplicemente. Ops, no, quindi copiamolo manualmente. È 192.168.10.139. Quindi la vittima in qualche modo dovrà accedere a quest'ultima e noi lo incorporiamo in questo tag html, ovvero script. Quindi come possiamo fare? Dobbiamo avere, la vittima in qualche modo dovrà cliccare su questo link, su una pagina html meglio ancora, su cui andremo a incorporare quest'ultimo. Quindi come possiamo fare? Semplicemente andiamo a installare un web server sulla macchina vittima, così che poi quest'ultima, cliccando sull'indirizzo IP del suo web server, automaticamente, implicitamente attiverà anche questo. Quindi andiamo sulla macchina vittima, per un secondo. Qui, e andiamo a installarci il web server di Windows, IIS. Quindi server manager. Andiamo su manage. Add role and feature. Ok, next, next, server role e andiamo a cercarci IIS, che è il web server che ci mette a disposizione Windows. Di default non è attivo, lo cerchiamo, eccolo qui, web server, IIS. Molto semplice, lasciamo tutto così, add feature. Next, qui abbiamo, qui lasciamo pure tutto così di default, next. Role services, qui abbiamo la possibilità di aggiungere ruoli aggiuntivi. Non ce ne dovrebbe servire nessuno in particolare, lasciamo tutto di default, next install. Adesso semplicemente dobbiamo attendere qualche secondo che il nostro web server venga installato. Come si osserva, l'installazione è completata. Installation succeeded. Chiudiamo e adesso abbiamo il nostro web server. Andiamo a vedere la root. Quindi andiamo su folder, disk pc, local disk, inetpub, wwroot. E qui c'è il nostro web server. Ci vediamo nel prossimo video. Andiamo adesso a modificare l'home page del nostro web server. Quindi innanzitutto andiamo sul pannello di controllo, così da vedere l'estensione. File explorer option. Qui andiamo a mettere display. Show. E togliamo hide, perché non vogliamo nascondere niente. Apply, ok. A questo punto abbiamo isstart.htm. Lo andiamo ad aprirla con un block notice, quindi apri con notepad. E qui semplicemente andiamo a incorporare il nostro javascript hook.js. Quindi lo prendiamo, lo copiamo e lo andiamo a inserire nell'head. Ma ad esempio subito qui sotto, sotto head, lo inseriamo. Così che venga eseguito automaticamente quando andiamo su questa pagina. Quindi salviamo. E a questo punto non ci resta altro che andare, che accedere su questa pagina. Quindi ad esempio possiamo banalmente farlo anche da locale o anche dall'esterno. Indirizzi IP della macchina ce lo ricerchiamo. IP config. E 1, 9, 2, 1, 6, 8, 10, 62. Quindi adesso vediamo quello che succede. Facciamo attenzione, andiamo praticamente qui. Riduciamo l'icona a questo. Qui abbiamo BIF. Ingrandiamo. Come si può osservare in questo momento, online browser, quindi quelli che interessano a noi, quindi offline non ci interessa, online browser, non c'è niente perché ancora appunto non abbiamo tra virgolette catturato il browser della vittima. A questo punto facciamo una cosa. Andiamo quindi sulla macchina vittima e digitiamo appunto, accediamo all'home page del web server. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 10, 62. Quindi http, 2, 2, 2, 1, 9, 2, 1, 6, 8, 10, 6, 2. Facendo così attiveremo ovviamente anche questo script e andremo a eseguire, andremo a prendere questo javascript dalla nostra macchina attaccante sulla porta 3000 e lo andremo a eseguire. Quindi invio ok come si può osservare l'utente ovviamente vede solo l'home page non vede niente ma noi magicamente siamo riusciti a catturare il browser della nostra vittima e qui possiamo adesso vedere tutti i details del browser e ovviamente riusciamo a ottenere molte informazioni tra cui la versione del web server attiva possiamo vedere il browser utilizzato avere informazioni sull'architettura del sistema operativo tutte informazioni che il browser riesce a indicarci quindi 64 bit l'indirizzo IP informazioni sullo schermo e tante altre informazioni da qui in poi possiamo effettuare qualsiasi operazione che vogliamo sfruttando appunto come ponte il browser della vittima che non si è accorta di niente ha semplicemente cliccato sul web server ma nel frattempo noi abbiamo avuto la possibilità di eseguire questo vediamo adesso alcuni comandi che si possono utilizzare quindi innanzitutto andiamo su command e proviamo ad esempio che so alert dialog quindi invio e qui possiamo creare praticamente un alert sullo schermo sul browser scusate della vittima quindi ad esempio clicchiamo su create prompt dialog proviamo qui possiamo stimolare l'utente a inserire qualcosa ciao inserisci qui la tua password vediamo se funziona quindi dobbiamo cliccare su execute vedere quello se lo riusciamo a visualizzare qui quindi teniamoci pronti qua execute come si può osservare l'abbiamo eseguito eccolo qua ciao inserisci la tua password qui magari l'utente inserisce 25 invio noi torniamo qui e possiamo vedere la risposta 25 quindi siamo riusciti a fare exfiltration di un'informazione dell'utente create alert dialog è abbastanza simile ciao esegui questa azione altrimenti il pc si spegnerà quindi execute e come si può osservare eccolo qua ciao esegui questa azione altrimenti il pc si spegnerà e l'utente magari facciamo compiere un'operazione all'utente tipo clicca qui o fai quest'altro invio poi possiamo abbiamo ad esempio i fake update quindi possiamo mettere qui fake eccolo qui per esempio fake last pass last pass è un password manager possiamo siccome chi utilizza questo strumento ha una master password in cui andrà a inserire tutte le sue password personali quindi un gestore di password e ovviamente ottenere la master password di questo gestore vuol dire accedere a tutte le password dell'utente quindi possiamo provare a utilizzarlo quindi fake last pass execute andiamo sul browser della vittima ed ecco qua l'utente qui potrà inserire quindi la sua email la sua password ovviamente noi la registreremo quindi pippo chiocciola gmail.com password login e ovviamente non accederemo a last pass ma noi con buona probabilità ci saremo prese le risposte qui possiamo eccole qua qui addirittura vediamo tutte le digitazioni tra cui la mail e la password che abbiamo inserito eccola qui nello specifico questa qua ecco qua ancora possiamo ad esempio possiamo poi divertirci a provarla abbiamo una fake notification bar di chrome quindi una falsa notification bar di chrome o di internet explorer proviamo questa execute ed eccola qui debwebsite want to run the follow with a pleasure continuare devi accettare questo pop up e ovviamente adesso non qui non abbiamo messo non abbiamo web server attivo ma altrimenti potevamo scaricare qualcosa lo possiamo andare a inserire qui nell'url e ovviamente l'utente inconsapevolmente andrà a effettuare un'azione oppure possiamo provare quest'altro o ad esempio google phishing se non ricordo male eccolo qua google phishing anche qui possiamo appare una falsa schermata di login di autenticazione di google in cui possiamo inserire le credenziali quindi torniamo qua ecco qui e questa qui ovviamente è una falsa schermata quindi topolino chiocciola gmail.com qualcosa a caso sign in ovviamente il sito non può essere raggiunto ma nel frattempo l'utente ha inserito queste credenziali e così via ce ne sono ce ne sono molte altre c'è ad esempio prettydeft e qui possiamo specificare ad esempio se vogliamo una falsa schermata per facebook per linkedin quindi ad esempio facebook alcune funzionano non tutte funzioneranno ad esempio eccola qui questa è quella di facebook funziona qui inseriamo ci dice che è avvenuto un timeout e poi dobbiamo rinserire email e password così che riusciamo a catturare le credenziali facendo login verranno registrate qui poi possiamo prenderci ad esempio uno screenshot con spider eye quindi digitando spider eye eccola qui e qui possiamo quindi catturarci uno screenshot di quello che vede l'utente a volte funziona questa a volte è un po' lento comunque vediamo se eccolo qua abbiamo catturato lo screenshot lo possiamo vedere a tutto schermo aprendo in una nuova finestra è esattamente quello che vede l'utente l'utente vede esattamente questo scusate eccolo qua questo è quello che vede l'utente questa infatti è la schermata che abbiamo catturato e comunque vi invito quindi a sperimentare tutte le possibilità che ci mette a disposizione questo strumento come si può osservare abbiamo tantissime cose abbiamo 56 moduli relativi al browser all'ingegneria sociale possiamo integrarci con metasploit possiamo utilizzare degli exploit che ci permettono quindi di incrementare le possibilità di questo strumento quindi l'invito è quello di sperimentare in ogni caso questo ci ha servito per comprendere ancora una volta la client side exploitation in quanto l'utente ha dovuto eseguire ha dovuto eseguire un'azione attrazione attrazione a attrazione Grazie.